Animali di male, inizia la seconda parte di tutti i regali dal Giappone La prima è uscita alle 14 quindi nel caso non l'aveste vista andatela a vedere Vi ricordo di commentare con la cosa che vi piace di più, che sono proprio curioso Lasciate anche un bel mi piace perché arriveranno tutti i vlog di Tokyo Ciao Spendo, spendo i soldi e rido Una sirenetta che ho vinto a Sabrina, dovrebbe essere Ariel, non lo so, comunque l'ho vinta Sabrina Questo dovrebbe essere un altro regalo, o peluche comunque che ho vinto a Sabrina, non mi ricordo se l'ho vinto io o l'ho vinta lei Questo peluche invece ho offerto praticamente un cioccolatino che avevo in una bustina che stavo mangiando A una giapponese a fianco a me che stava guardando mentre cercavo di vincere con l'artiglio Quindi io per come sono fatto ho chiesto se ne voleva uno, l'ha preso E questa sta in puntata che doveva vincere un peluche e regalarmelo Cercava di spiegarmelo in giapponese metà inglese E quindi alla fine, in realtà raga mi faceva cagare sto coso, cioè sto Pokémon non mi piaceva Quindi io gli dicevo no no grazie tranquilla, cioè tienilo Ti ho offerto un cioccolatino e ti hai messo 2000 yen per vincermi un pupazzo Ho detto vabbè, detto no no tienilo, tienilo Alla fine si stava offendendo del fatto che non prendevo questo regalo Quindi alla fine avevo fatto Va bene grazie Come penultimo Pokémon ci sta il Porygon che ho dovuto vincere in un gioco di abilità Sempre le macchinette che dovevo premere al momento giusto Mentre c'era sto coso rotante che si muoveva velocissimamente Era una specie di ruota con tantissimi tasselli Se tu ricevi a beccare sul tassello giusto quando girava cadeva il Pokémon O comunque il premio e quindi ho vinto anche Porygon E l'ultimo Il demonio Questo ha dato via a tutto il resto dei peluche che ho vinto Magnemite Appena l'ho visto ho detto raga questo deve essere mio L'ho provato in quattro giorni diverse In quattro modalità diverse In quattro sale giochi diverse Non riuscivo a vincerlo Alla fine l'ho vinto Ho iniziato a urlare come un pazzo Perché non so mi piaceva troppo sto Magnemite Cioè guardate quanto è bello Sì probabilmente starete pensando Ma quanta cacchio di roba E come l'hai portata tutta fin qua Scrivetemi intanto nei commenti Devo ancora far vedere qualcosa Quindi magari a fine video Scrivetemi quale cosa Quindi qualsiasi cosa che vada dal peluche ai vestiti ai regali Vi è piaciuta di più tra queste qua Che sono molto curioso Allora in Giappone ci sta una cosa molto figa Perché ho avuto la possibilità di comprare questo paio di scarpe Ma effettivamente di due colori diversi Come potete vedere Cioè io sono stato il primo a comprare le nuove Nike 270 Che per me erano veramente bellissime E quindi le ho trovate in versione nera Quindi molto elegante Di diverso colore come potete vedere In realtà vi prendo in giro Ne ho comprato due paia Volevo solo tanto vedere se qualcuno di voi ci cascava Quindi il paio arancione Sempre nere E dello stesso nero anche in versione gialla Barra verde Lo so che state in trepidazione Per vedere gli altri vestiti che ho comprato Che vi ho detto prima Ma ancora prima di vedere quelli Io e Sabrina ci siamo voluti viziare Con dei massaggiatori Ci sta il massaggiatore per il collo E per diciamo la fine della schiena Come potete vedere Se premiamo il pulsante Iniziano a girare Quindi da mettere appunto il collo qua E c'è anche la versione Sempre alla stessa velocità Ma che diventa rosso Perché è anche riscaldante Quindi è una specie di cuscino massaggiatore Ma a noi non bastava Massaggiare il collo e il fondo schiena Che non è il fondo schiena Fondo schiena Ma è il fondo della schiena Ci siamo presi anche due massaggiatori Non uno Cioè alla fine non costavano Non costavano praticamente niente Ed erano gli unici massaggiatori Che si potevano portare in Italia Che appunto avrebbero funzionato Perché c'è un tipo di voltaggio diverso Mi pare della corrente E quindi praticamente si infila qua dentro la mano Si preme il pulsante sopra E c'ha diversi modalità Per massaggiare le mani Sono diventato un robot E per non finire dal massaggiatore le mani Siamo anche passati al massaggiatore i piedi Come potete vedere Ci sono tutte le cose scritte in giapponese Ma mi sono fatto spiegare Comunque sono quattro pulsanti Con diverse modalità E praticamente infili il piede qua dentro Raga è qualcosa di allucinante Queste cose ovviamente le abbiamo provate Prima di comprarle È il paradiso E ora finalmente possiamo passare Alle ultime cose Questi sono stati colpiti Diciamo in un bar Che anche questo vedrete un vlog dedicato Dove siamo andati a sparare con delle armi da software Ho voluto ottenere quello che abbiamo Crivellato insieme io Giuse e Surdi Che è tipo bucato Cioè completamente distrutto E anche quello con cui abbiamo sparato col cecchino E ora signore e signori Devo posizionare la telecamera Perché arrivano i pezzi forti Partiamo da una cosa normale Che in realtà non è una Ma sono tre Visto che sia Giuseppe Che Sabrina Mi hanno rotto le scatole Dei mettiti le cinture Dei mettiti le cinture Allora ho comprato la cintura Di Bape Un prezzo normalissimo Diciamo che appunto Mi piaceva Quindi l'ho voluta appunto comprare Ho comprato anche quella di Tommy Il figure Come vi ho detto prima Ho comprato un sacco di roba In quel negozio lì Che mi piaceva appunto molto E l'ultima da un negozio Di reselling Quella di Off-White Condizioni ottime Quindi praticamente nuova E questo era il reparto cinture Passiamo al regalo Che ho fatto Per Tudor Ho fatto il regalo a Giuseppe Ho fatto il regalo a Sabrina Ho fatto il regalo a Gabbo Ho fatto il regalo anche a Tudor Tutta la roba che vedrete adesso L'ho fatta nel giorno di shopping compulsivo Insieme a Surry E quindi come ben sapete Quando si è con Surry Le banconote volano Quindi diciamo che per un amico speciale Ho voluto fare un regalo speciale Devo stare molto attento Perché tutte queste cose che sto scartando Poi le devo ancora dare a loro Quindi sto registrando il video prima Una maglietta di Fendi In questo caso XXL Anche perché comunque a Tudor sta bene Ma ha detto di prendergli un XL all'incirca Con la nuova collezione Della nuova collezione Mi pare Perché comunque era lì in negozio Con appunto gli occhi del Bugs Che è la collezione che ha lanciato Nell'ultimo anno Gli ultimi due anni Non mi ricordo Fendi Una maglietta veramente bellissima Mi dispiace non potervela far toccare Perché ancora non c'è questa funzionalità su YouTube Ma c'è tutti diciamo dei cosini in rilievo E ancora in più rilievo Gli occhi che sono tra l'altro anche specchiati Spero che gli piacerà Forse è meglio che nei prossimi viaggi arrivo con del lavoro da fare Perché quando non ho del lavoro divento troppo generoso E via le banconote E quindi a questo punto per rimanere anche in tema Fendi Visto che non potevo non comprare anch'io qualcosa per me Ho deciso di prendere Prima una cosa più piccola Che è il portafoglio Che come potete vedere ha sempre gli occhi Anche questo è un filo in rilievo Non troppo Perché io volevo un portafoglio Visto che anche già questo portafoglio che ho adesso Di Tumi Non ha il portamonete perché lo appesantisce Lo rende più grande Quindi vuole una roba abbastanza Diciamo non un portacarte Ma un portafoglio che sia abbastanza sottile Infatti questo diciamo che è molto sottile Quindi dentro rosso All'esterno è nero Con appunto degli occhi gialli Appena l'ho visto Ho detto È mio Bellissimo E anche io mi sono voluto comprare appunto Una maglietta In questo caso è nera Sempre con gli occhi In questo caso gialli dovrebbe essere pelle Di colore giallo E gli occhi specchiati in rilievo Ora cambiamo marca Ma non cambiamo la qualità Anche questa appena sono entrato Già forse la potete Un filo entra a vedere Non è più Fendi Ma è Gucci E ho comprato questa felpa Raga questo era il paragon che stavo facendo prima Con Supreme Ovvio che sono due marche totalmente diverse Ma appena ho indossato questa felpa Ho detto Come ho potuto comprare anche solo una roba di Supreme Parlo sempre di livello di qualità E non di bellezza dei capi C'è questa specie di lince Ghepardo tigre Ancora devo identificarlo Che è in rilievo Ovviamente in rilievo Con sotto il logo di Gucci Rossa e verde Veramente fighissima Pagata a un occhio della testa Però a me Strapiace Passiamo ancora oltre Sempre un'altra marca Stessa qualità Perché in questa cosa Ci ho fatto anche un abbinamento Vi ho parlato prima delle bandane E infatti come bandane Ne ho comprata Siamo dei Tommy Il figure Che non so dove sia finita Ma da qualche parte c'è Ma ho voluto comprare Anche quella di Louis Vuitton Louis Vuitton Questa qua è tutta di seta Se non sbaglio C'è proprio una roba leggerissima Non ha a che fare Con tutte le altre fascette Che ho avuto Con il logo al contrario Perché quest'anno Non so per quale motivo Louis Vuitton Ha voluto fare Il logo al contrario Però se lo aggiro Appunto c'è Logo classico Questa specie di rosa salmone Mischiato al blu L'ho comprata Perché ci ho abbinato Questa maglietta Sempre di Louis Vuitton Come potete leggere È tipo lunghissima Infatti per poter Far vedere Diciamo tutta la scritta Dovresti stare con le mani Con le braccia Praticamente così È una maglietta Che sembra più Un pigiama XXXL Infatti si porta così Molto molto larga E sotto ci sta scritto Sicuramente lo pronuncerò In una maniera indecente Mattelier 1854 Che mi sono fatto spiegare Dal tipo giapponese Di Louis Vuitton Che è praticamente La prima boutique Di Louis Vuitton Che è stata aperta Nel punto Nel 1854 A Parigi E quindi C'è questa maglietta qua Stracomoda Con cata rinfrangente Cioè se ci spari la luce sopra Si vede Quindi praticamente La stessa diciamo Che utilizzano Le persone in autostrada O comunque Le persone che lavorano In strada Infatti diciamo Che riflette la luce Che tra l'altro Non ero mai entrato In uno di questi negozi qua E l'accoglienza Il gusto Lo stile Louis Vuitton Aveva 5 piani Cioè Lì a Tokyo Una cosa Che sono entrato Ho detto Cos'è un castello Cioè Era veramente Una cosa Assurda Cioè Il modo in cui Mi hanno trattato Cioè Ovvio Entri in un negozio Dove si spende anche un sacco di soldi È stato veramente Veramente bello Una nuova esperienza Nonostante sono grande Non avevo mai provato Un'esperienza del genere Per concludere Ma non Meno importante Ho preso queste due magliette Che appunto Vedrete anche in un vlog Che sono di Una marca giapponese Chiamata Ghostar de Fuga Semplicemente Perché mi piaceva la scritta Che c'è scritto Touch to match Smartphone In un era dove Tutti sono Tutti i giorni Appiccicati Al telefono E basta Mi piaceva diciamo Molto il significato Con queste tipiche Ragazze giapponesi Che stanno al telefono E un'altra Della stessa marca Che ci sta Una ragazza Praticamente nuda Attaccata alla torre Di Tokyo Che è quella che sembra La torre Eiffel Di Parigi Ma non lo è Così Do Tokyo District Mi piaceva molto Era molto simpatica Anche questa Veste molto larga Streetwear Una marca Che si trova Soltanto in Giappone Cioè alla fine L'ho pagata 50 euro Questa maglietta Nulla di che Cioè una qualsiasi Maglia di marca Costerebbe anche di più E questa è L'ultima cosa Ma non la meno importante Anzi forse Una delle più importanti Mi sono comprato Diciamo che Questa è solo una parte Un completo Che mi serve appunto Per il matrimonio Di Gabbo Queste sono Le scarpe E voi mi direte Che schifo E vi posso rispondere Anche avete ragione Ma nel senso Che non Non è Diciamo Il modo in cui Si veste un ragazzo Tanto meno io Però Mi è scattata la scintilla Guardandolo su Un manichino Ho detto Devo andare al matrimonio Devo comprare Comunque un completo Queste sono solo le scarpe Adesso cercherò Di farvi vedere Un minimo Il resto Ma sicuramente Vedrete una foto Dove si vede tutto Su Instagram Perché appunto Non è che si può andare In maglietta Così A un matrimonio Bisogna andarci Eleganti E quindi queste qua Diciamo solo le scarpe Comode Quanto scomode Anzi direi Belle E scomode Sempre di Tom Hilfiger Questo è Sono appunto Le scarpe E qua dentro Ci sta Appunto Il vestito Pantaloni Camicia Il vestito sopra Che non so Come si chiama Diciamo un po' come Quando metti lo smoking Ecco diciamo La giacchetta La giacca sopra Papillon Il fularino Che si mette Nel taschino Diciamo che è troppo Un casino da aprire E farvela vedere Vedrete sicuramente La foto Anzi ve lo lascio Proprio come Hype Tutto Tommy Perché sto Veramente Un botto bene Cioè non l'avrei mai detto Mi son guardato Dallo specchio E ho detto Così si veste un miliardario Di classe Cioè Stavo veramente bene Non l'avrei mai detto Ma troppo bene Anzi la giudicherete voi Attraverso appunto la foto Ma Animali Animale Questo video Può concludersi qua Un video decisamente Più lungo Più elaborato Rispetto a quello Di settembre Ma avevo voglia Di condividere con voi Tutti i miei acquisti Tutte le mie cose Tutti i regali Che ho voluto fare Un po' Alle persone più importanti Fatemi sapere nei commenti La cosa che vi è piaciuta di più Tra tutte quelle che vi ho fatto vedere Grazie davvero a tutti Per la visione Per essere arrivati fino in fondo Siete i migliori Lasciate un bel pollicione in su Che arriveranno tutti i vlog del Giappone Come sempre Vi potete iscrivere al centro Guardare altri I miei due bellissimi video Lasci E noi ci si becca Ad un prossimo video Stay angry Stay animal Shoo